La Fortitudo continua a lavorare in previsione della partita di domenica pomeriggio con la Consult Invest che scenderà a Iesi per la seconda giornata del girone di ritorno e alla ricerca di quello che sarebbe in caso di vittoria il quinto sigillo consecutivo per gli uomini di coach Bonicciolli. Dalla trasferta intera marchigiana su un parchè che i bianco-blu ritroveranno fra 40 giorni per la final eight di Coppa Italia, la Fortitudo cercherà di palesare un ulteriore progresso sotto l'aspetto della continuità di rendimento nell'arco dei 40 minuti, problema principale che ancora affligge un gruppo che ad ogni modo vi ha saputo sopperire al meglio in virtù di una classifica che vede la sola Trieste davanti ai bianco-blu dopo 16 partite. Al Palatricoli sarà assente Capitan Mancinelli, sempre a lavoro con il preparatore atletico Parisi per ritrovare una condizione atletica ottimale in vista dei mesi decisivi di stagione. Anche per tale ragione è logico ipotizzare una crescita di minutaggio per Matteo Chillo in una contesa che sotto i tabelloni non avrà fra i protagonisti nelle file dei marchigiani il muscoloso Quarisa infortunato che diverse insidie creò i bolognesi nel match di andata giocato al 105 Stadium di Rimini. Dal canto suo però l'Aurora farà esordire Marquis Green, giocatore proveniente da Venezia e che rumors di mercato davano per possibile rinforze in vista dei play-off proprio della stessa Fortitudo. Si tratta di un innesto di notevole spessore. avendo il giocatore una lunga esperienza in Serie A e vinto nel 2008 una Coppa Italia nell'Avelino guidata da Matteo Bonicciolli.